Amici della Magic, ben ritrovati. Ieri sera abbiamo vissuto l'atto conclusivo della stagione 2019-20, un atto conclusivo che ha visto anche due protagonisti a noi cari, cioè Giancarlo Coppa e Giuseppe Costantino, che si sono giocati la Jaguar, la vittoria finale del nostro concorso Magic per la stagione 2019-20, prima di svelare il vincitore. Ce l'ho il nome in questa busta, i due ragazzi hanno praticamente dormito qui in casa Gazzetta aspettando i calcoli perché è stata una finale molto combattuta, lo diciamo subito e complimenti a entrambi perché è davvero stata equilibrata. Prima però di dire il nome del vincitore vi ricordo che siamo ad agosto, ma il nostro fantacalcio Magic si era concluso ad agosto, quest'anno è stata una stagione travagliata particolarmente a causa della pandemia. Nella stagione 2020-2021 chi gioca Magic e ci sta adesso guardando e quindi molto interessato avrà diverse novità, tra cui la nuova app, la possibilità di creare delle classifiche personalizzate con gli amici, quindi di sfidare direttamente gli amici e in ultima una novità molto gradita perché quest'anno abbiamo avuto Bob Ovieri tra i nostri testimonial, ci sarà la possibilità di partecipare a una sorta di lega creata proprio per sfidare Bobo e quindi batterelo, non so se voi quest'anno avete provato anche a battere il nostro Bomber che si è classificato bene però, ho visto l'ultima giornata? Sì, era intorno alla 14 millesima posizione, quindi positiva. Allora, innanzitutto vi chiedo la vostra impressione sulla serata di ieri, so che è stata molto molto combattuta, non diciamo ancora chi ha vinto o no, ma innanzitutto la vostra sensazione è essere venuti in gazzetta a godervi l'ultima giornata di Sera A, punto a punto anche tra di voi. Sì, sicuramente è stata una serata con tanta tensione, vissuta comunque con serenità, con lo spirito, siamo arrivati in finale, l'importante era quello, comunque siamo due vincitori in ogni caso, non c'è un perdente, almeno da parte mia. Sì, per me è stata un'esperienza bellissima, che porterò sicuramente nel cuore per tutta la vita, comunque è stato un successo, quindi va bene così. Allora Giuseppe e Giancarlo, è arrivato il momento del calcolo ufficiale, che è stato già fatto ovviamente, ma io devo comunicare ufficialmente chi ha vinto il Magic Campionato 2019-2020, ho il nome in questa busta, mi sento un po' Pippo Baudo, devo dire la verità, però andiamo a leggerlo, scusate, appoggio qua, abbiamo chiaramente la nostra protagonista, quarto ospite, anzi terzo, io non sono un ospite, è la Coppa, che andrà al vincitore, e il Magic vincitore della stagione 2019-2020 è Re Costa. Bravo! Lo possiamo anche dire ora, Giuseppe, complimenti innanzitutto ovviamente, è stata però una finale combattuta, perché mi sembra che il punteggio della finale sia stato pari in realtà, un 1-1, quindi la finale, come tutte le finali molto tese, non tanti gol, come nel calcio vero, insomma, vi ricordo Milan-Juve, l'ultima finale italiana, 0-0, Squiscio, però alla fine è così, le finali importanti, sentite, sono così, un 1-1, che però premia Giuseppe, dobbiamo dirlo, perché si era presentato alle Final Four come primo in classifica generale, mentre invece Giancarlo eri terzo, se non sbaglio, quindi in caso di parità, il regolamento prevedeva vincesse il concorrente che si presentava con una posizione migliore in classifica generale, quindi Giuseppe, hai vinto tu, ti ha dato del filo da torcere, Giancarlo. Complimenti a Giancarlo, è stato un valido avversario, sono contento di essere arrivato con lui, perché nonostante la tensione è tutto, l'abbiamo vissuta bene insieme, quindi sono veramente contento. Giancarlo, tra i nomi che potevano farti svoltare la serata di ieri c'era quello di Rodrigo De Paol, perché insomma era in un attacco di due squadre simile, Caputo entrambi, immobile entrambi, c'era Zappata per Giuseppe che però ha giocato il sabato in anticipo e non l'aveva assegnato, tu invece giocavi col trequartista, con De Paol, magari un gol contro il Sassuolo, un rigore, visto che… Il rigore che si aspettava anche gli udinesi, i tifosi dell'udinese, tutto l'anno, visto che l'unica squadra in Serie A che non ha preso nemmeno un rigore, essendo rigorista ci speravo, ci contava un pochino, giustamente… Hai giocato quindi sulla cabala. Arrivare in finale sarebbe stato bello anche vincere, comunque è andato bene così, dai. Beh perché un gol di De Paol, insomma io ho visto i calcoli, avrebbe spostato le soldi a favore di Giancarlo, invece tu Giuseppe, devo dire, il giorno prima, sabato, avevi già messo in cascina i punti necessari, gli ultimi ti sono arrivati da Kuruseschi, Faraoni mi sembra e Caputo, che non hanno deluso, non hanno portato bonus, però insomma sono bastati per farti arrivare tranquillo al gol e aspettare appunto che De Paol facesse su. Diciamo poi era importante arrivare nel range giusto, perché se avesse segnato De Paol rischiavo che lui arrivasse a due e io mi fermassi a uno, quindi è andata bene così. Giancarlo, se hai un piccolo rimpianto, io ho visto la tua formazione, col senno di poi è facile ragazzi, io col senno di poi sono fortissimo, devo dirti la verità, però devo anche dire quella che io chiamerei, non so se hai visto Slavin, il patto criminale, il film, la mossa a Kansas City, un film con Bruce Willis, Joshua Hartnett, praticamente era quella che era la mossa a sorpresa, che l'avversario non si aspetta, tu avevi Pinsoglio, terzo portiere della Juventus, che è sceso in campo, ha preso voto 6 e non ha preso gol, quello ti avrebbe fatto svoltare, invece schierando Shesny, purtroppo. Le previsioni? Sì, effettivamente c'era il bandottaggio dei portieri, però non era ancora ben definito, l'avrei anche rischiato sinceramente, il fatto è che avevo altri calciatori che non erano sicuri di scendere in campo e non volevo pregiudicare tutti i cambi in caso di altre assenze, avrei messo anche tu il SB titolare a posto di Milinkovic, ma visto la formazione iniziale, si sono potute vedere di Veccia Sampdoria, ha preso la panchina, quindi ho rinunciato anche a quella. E questo è un ragionamento anche per gli amici a casa, lo diciamo, intelligenti, io quando faccio i consigli a Fantacalcio, vi dico sempre, rischiate il meno possibile, soprattutto nelle ultime giornate, dove le formazioni sono suscettibili anche di diversi cambiamenti all'ultimo, di giovani che magari gli allenatori schierano a sorpresa e magari tu quello che pensavi fosse il titolare non gioca, quindi giustamente hai detto sprecare un cambio, possibile cambio col portiere, è una tattica pericolosa. Tu invece, Giuseppe, mi sembra che hai fatto due cambi proprio all'ultimo, ti eri riservato due cambi in rosa da sprecare proprio all'ultima giornata, da sprecare, da giocarsi, sprecare non si spiega mai, da giocarsi all'ultima giornata, uno solo, però hai fatto una tattica secondo me giusta, sapendo che Giancarlo ti doveva battere, il pareggio ti sarebbe bastato, cosa hai pensato di fare? Non ho avuto dubbi di andare subito su Caputo, perché avrei rischiato tantissimo a prendere Ibra e non avere Caputo, ma infatti Caputo non ci ho minimamente pensato, l'unico mio dubbio era beccare, tra virgolette, il capitano del mio avversario. Dopo un'ora e più di analisi al telefono con mio fratello, ho scelto bene prendendo Cialanoglu. Cialanoglu che è stato capitano della squadra di Giancarlo e Caputo che era uno dei tuoi attaccanti, perché infatti Giuseppe essendo davanti, ha fatto la tattica, spieghiamola bene, mi copro con lo stesso attaccante suo, così almeno 2 su 3, perché alla fine lui giocava a due punti, che hanno Caputo e Immobile che avevi anche tu, la differenza era De Paul Zapata più alcuni uomini in difesa, Smalling mi sembra, praticamente mi sentivo avanti per il semplice fatto che io Andanovic lo vedevo molto meglio rispetto al portiere della Juve, chiunque... Un'altra differenza, spieghiamola anche a casa, un'altra differenza nelle vostre formazioni era il portiere, tu hai puntato sulla Juventus, tu sull'Inter e in questa ultima giornata insomma, tranne il famoso Pinzoglio, insomma... La scelta favoriva di Cialanoglu. Bisogna andare a coprirmi, però credo che non l'avrei fatto indipendentemente perché alla fine qualcosa devi rischiare perché non hai tutti i giocatori uguali, quindi per me era meglio Andanovic e l'avrei schierato comunque Andanovic. Beh, siete due fuori classe veramente, perché anche parlando delle strategie tattiche io non è gre... no, le capisco anche io, sono tanti anni che mi occupo di questo, però devo dire che siete sicuramente più bravi di me, perché siete arrivati fino in fondo, Giuseppe è momento delle dediche, visto che tu hai vinto, c'è una persona particolare che ti ha accompagnato in questa avventura, ti ha accompagnato anche qua a Milano, perché ricordiamolo, tu arrivi da Reggio Calabria, tu Giancarlo sei un po' più vicino, per cui viaggetto di macchina perché arrivi dalla provincia di Sonio, ricordami il paese che io... Ardenno. Da Ardenno. Salutiamo innanzitutto i vostri compaesani che verranno seguito anche, speriamo, la diretta di ieri sera, infatti, e ti ha accompagnato in questo viaggio, questa persona, quindi ti ha sopportato anche, immagino, in tutte le tue ore di tensione prima della finale, anzi prima ancora della semifinale probabilmente, quindi dici tu il nome, salutiamola. Sì, vorrei ringraziare soprattutto due persone, non solo una, una è la mia principessa che è qui con me, che mi ha accompagnato qui, ma mi sostiene in tutte le mie cose, mi supporta, e un'altra è una persona speciale che è mio fratello, cioè... Eh beh, certo, diciamo che può anche non essere gelosa la nostra amica, hai detto principessa ma non ci hai detto il nome. Eh, Claudia. La nostra Claudia può non essere gelosa perché è dei fratelli, insomma. No, mio fratello e mia sorella sono la genere del mio cuore. Salutiamo anche la sorella allora, dai, perché siamo così sempre un po'. Era per dire che mi hanno aiutato, tra virgolette, per vincere. Mia sorella, logicamente, non solo la saluto, vi mando un abbraccio grande quanto il mondo. Tu Giancarlo vuoi fare dei saluti a casa, c'è qualche persona? Sì, i miei figli che mi hanno sempre sostenuto, fatto a calcisti anche loro. Li hai battuti oppure giocati su piattaforme? Li batto sempre. Anzi, direi, dico che vincono le leghe private con i consigli del papà, ecco, diciamo una cosa così. No, non solo quello, adesso, veramente sì, ci consultiamo, anche a loro piace il gioco, sono appassionati. Beh, allora... Saluto entrambi, sì. Stefano e Andrea. Stefano e Andrea, l'anno prossimo avete una missione, quella di essere qui voi e magari Giancarlo ad accompagnarvi, al posto che essere lui in prima persona, anzi, chiaramente questo lo auguriamo a loro, è più di tenere duro e provarci anche l'anno prossimo, essere qua con noi in Casa Gazzetta. Ragazzi, è stata una lunga cavalcata, devo dire, è stata una lunghissima cavalcata che si conclude con un atto che è dovuto in tutti i tornei di qualsiasi sport, il pantacalcio è legato comunque allo sport, cioè la consegna della Coppa. L'abbiamo qua, è la nostra protagonista, stagione 2019-2020, ci potrà incidere il tuo nome, caro Giuseppe, perché sei tu il campione, appunto, del Magic Campionato, stagione 2019-2020. La vuoi far vedere perché così almeno l'anno prossimo... In tutto questo, come torniamo a casa? Tu Giancarlo con una Renault Clio, che insomma, magari... Sì, 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 va più che bene. Va più che bene e tu Giuseppe addirittura in gran carriera con una Jaguar e Pace, mi sembra che si chiami. In inglese, sì, quindi insomma, tu torni a casa per la mia, a Reggio Calabria, poi rinuncia al biglietto dall'aereo, prendi la Jaguar e parti, magari... Insomma, è anche un bel vedere. Non la senti neanche la strada. L'anno prossimo ci saranno dei nuovi premi, ovviamente, da andare a vincere, ci sarà una nuova stagione da vivere insieme, speriamo un po' meno lunga di quest'anno, non per altro, perché quest'anno, purtroppo, lo ripetiamo, è stata anche condizionata da un evento che ha messo in ginocchio tutto il nostro paese, non solo il nostro concorso, speriamo di vivere una stagione normale, ma divertente come quella di quest'anno, perché io mi sono divertito e immagino anche voi, insomma, perché è vero che nello sport in generale conta vincere, ma partecipare è bello ed è divertente, soprattutto quando lo si fa, come l'hanno fatto loro ieri sera, davvero in maniera corretta e leale. Siete stati molto bravi. Ti ringrazio. Con questo ci rivediamo nella stagione 2020-2021, appena avremo delle novità, lo comunicheremo sulle nostre piattaforme, sulla Gazzetta dello Sport e su gazzetta.it. Mi raccomando, studiate, perché io lo ricordo ogni volta, l'importante anche al Pantacalcio è studiare e non farvi trovare impreparati all'inizio della prossima stagione. Un saluto e complimenti ancora ai nostri amici. Complimenti al mio avversario. Complimenti a... Di nuovo. Alla prossima Grazie a tutti.